Ok Vediamo cosa c'è Nucleo solare Niente Non ho nemmeno solarite guadagnato Ok, mi sa che non ne guadagnerò più Niente da dire Vorazon, dimmi Riesco a malapena a comprendere il vostro dolore, Artanis Dei nobili templari trasformati in mostruosità Quelli rimasti intrappolati in un corpo controllato da Amon È il destino peggiore Ma quel che mi addolora è l'incertezza del loro futuro Sono i miei fratelli e le mie sorelle Quando colpiremo quegli abomini I nostri fratelli rimarranno a guardare Assisteranno in silenzio Forse sono già persi nell'oblio Non posso offrirvi conforto né certezze, amico mio Ma sappiate che questa è l'unica via I know Amon attende Non farci perdere altro tempo, Artanis No Ora che la matrice psionica è caduta Amon non può richiamare l'armata d'oro su Ayr Per difendersi Dobbiamo distruggere il suo corpo ospite Prima che si risvegli del tutto Per la salvezza del nostro popolo Non possiamo esitare Andiamo Per Ayr Cosa? Le tue azioni non hanno eluso il mio sguardo, Artanis I tuoi piani non mi sono nascosti E tu Arrivi in ritardo Contempla la forma del tuo dio Il culmine di un ciclo messo in moto quando sono nate le stelle Come fu il vostro inizio Così sarò la vostra fine Questa è la verità, Artanis La tua gente La tua fede Il tuo cala Tutto quanto È una menzogna Di voi non rimane nulla Ti sbagli Siamo finalmente liberi Di diventare qualcosa di più Noi abbiamo un futuro Preparati ad assistere alla potenza dei primogeniti Dunque questo è il corpo ospite di Amon Un abominio formato dalla carne dei nostri fratelli E dalla carcassa dell'unicamente In vero, Gerarca I miei sensori rilevano che la sua forma sta consumando energie del vuoto a un ritmo allarmante In queste condizioni, nemmeno le nostre armi più potenti sono in grado di avere effetto su Amon Quei frammenti generano energia del vuoto Sottraggono la vita intorno a loro Per alimentare il suo corpo ospite Devono essere distrutti Il terreno che li circonda è stato destabilizzato È come se stesse terraformando la zona Trasformandola nel vuoto Un attimo I frammenti stanno aprendo dei varchi Evocano delle entità per difenderli Allora non abbiamo tempo da perdere Morieri, preparate le lame Combattiamo per il futuro di Ayul Ok Bisogna eliminare i frammenti del vuoto Se vogliamo colpire la forma ospite di Amon Combattete con onore, Templari Il vuoto riflette i miei desideri E io desidero la vostra distruzione Amon continua ad aprire varchi per proteggere i frammenti Dovremo attaccare prima che i difensori diventino predominanti Ok Sono il cuore della tenebra Prima di quanto facciamo? Cristalli Attrezziamoci subito con delle difese Non hai abbastanza minerali Non hai abbastanza minerali Non hai abbastanza minerali Non hai abbastanza minerali Non come uno Non pojawi Non hai abbastanza minerali Allora inequitable Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Artanis, rilevo un numero consistente di entità del vuoto dirette verso il nostro presidio. State pronti a difendervi. Guarda qua che roba. Allora. Grazie a tutti. Ok. Ok. Grazie a tutti. 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 Niente servono molte più difese Ok Sono la voce Avete bisogno del mio talento Per lui Siamo tutti Siamo tutti Siamo tutti Liberatevi dalle vostre sofferenze Barco rilevato Aspettatevi presto un altro assalto di entità del vuoto È arrivata la porta a storia Barco rilevato 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 Ok E' arrivata la porta stormo Non hai abbastanza minerali Questo guerriero si è destato Ok 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 le aspetto Ok 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 Oh mi sono incastrato qui stavolta Così Ok 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 Grazie a tutti 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 Non posso più Produrre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Wow Grazie a tutti 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 Grazie a tutti